Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, questo è il nostro primo video, c'è la presentazione. Mi chiamo Vero, ho 10 anni. Mi chiamo Jennifer, ho 11 anni. Mi chiamo Denise, ho 9 anni. In questi percorsi di video faremo challenge, vlog, goal e tante altre cose. Se il video vi è piaciuto lasciate 5 like, attivate la campanellina e commentate qui sotto. Ciao!